ciao a tutti ragazzi io sono luca toselli e benvenuti su retro che cos'è retro perché siamo qui che cosa ci facciamo come mai questo canale ha un altro nome come mai retro vi spiego tutto come ben sapete sono un content creator o un canale youtube a tema calcio e juventus nello specifico che vanta oltre 200.000 iscrizioni proprio oggi mi è apparso un ricordo su facebook sei anni fa ottenevo il mio play button per aver superato i 100.000 iscritti su youtube quindi sono sì fortemente legato al calcio per passione e anche per lavoro appunto il mio primo canale youtube ma non solo non sono sempre stato solo legato al calcio ho avuto un'infanzia sono cresciuto negli anni 90 e negli anni 90 c'erano diverse tematiche nel 2006 poi il mondiale vinto dall'italia mi ha aperto un mondo mi ha fatto innamorare del calcio avevo 13 14 anni insomma stavo iniziando andare alle scuole superiori in prima liceo ma prima di quei momenti ho sempre avuto una forte passione proprio perché eravamo negli anni 90 per diverse cose che possiamo anche definire nerd probabilmente al giorno d'oggi quindi voglio raccontarvi un po di più di quel mio lato che non sono mai riuscito ad esprimere non al 100 per cento almeno sul canale principale perché quello era appunto dedicato al calcio ripeto un lato nerd anche se non sono un vero proprio nerd quelli per definizione che collezionano magari tutto tra l'altro ai tempi la parola nerd era vista un po come un'offesa diciamo che con il tempo è cambiato un pochino il significato di questa parola che secondo me non deve essere offensivo ognuno ha diritto ad avere le proprie passioni io stesso mi metto in prima linea in questa cosa proprio perché ho vissuto diversi interessi che andavano a posizionarsi sulla definizione di nerd addirittura la mia formazione perché comunque ci sarà un motivo no se sono laureato in informatica non può essere stato semplicemente un caso e infatti non lo è sono laureato in informatica proprio perché determinate cose mi piacciono e mi sono sempre piaciute negli anni 90 che cosa facevano i ragazzini guardavano i cartoni animati e quindi dragon ball pokemon yugioh one piece anche se one piece diciamo la verità è qualcosa che più legato ai miei anni tra i 20 e i 30 insomma anche ora continuo a leggere il manga di one piece continuo ad acquistare il manga di one piece qui dietro nella libreria lo avete sempre visto nei video magari non avevate focalizzato perché quando ero piccolino c'era più dragon ball one piece sì lo davano sempre su italia 1 ma eri più focalizzato su dragon ball one piece è qualcosa anche di più profondo e poi al di là di cartoni semplicemente della mediaset quanti cartoni della disney io tuttora credo di sapere a memoria tutti i film classici della disney o tutte le vhs sono sempre stato anche un po patito di collezionismo e questa cosa mi è rimasta anche da grande e poi ovviamente i videogiochi perché avevi i cartoni animati e poi avevi le action figures o comunque le carte di yugioh che poi sono diventate magic che è un'altra cosa che mi sto portando dietro negli anni e gioco ancora arriveremo vi racconterò anche tutto quello che tratta di magic tutto quello che riguarda magic ma poi videogiochi videogiochi sono stati incredibili prima vi dicevo della disney e quindi dato che ho giocato anche a final fantasy 8 per dire mi sono innamorato poi di kingdom hearts all'inizio ho giocato con super mario su new nintendo 64 su varie console portatili come game boy game boy color e ovviamente pokemon non poteva mancare all'interno anzi è stato probabilmente il brand che più mi ha accompagnato sia nell'infanzia ma non solo ed è anche uno dei motivi per cui ci troviamo qui tante volte su youtube commento dei video quelli che magari mi interessano e non solo inerenti al calcio come quelli di cedonia per esempio ma ci sono anche altri youtuber legati a pokemon che seguo come possono essere che non so creepy axo dario moccia e tante volte commento e mi ritrovo delle risposte che mi dicono grande luca anche tu segui cedonia anche tu segui pokemon e cadete un po dal pero quindi mi sembrava necessario riassumere un pochettino e spiegarvi anche qualcosina che magari i più vecchi possono anche ricordarsela lontana e i più nuovi forse no io francesco ci conosciamo da anni davvero da anni prima che aprissimo entrambi i nostri canali youtube io quest'anno festeggerò il nono anno di youtube sul primo canale ecco quindi vuol dire che ci conosciamo da almeno dieci anni buoni ci siamo conosciuti su pokemon millennium io ho collaborato con pokemon millennium in due esperienze diverse tra l'altro una molto piccola andavo credo alle scuole medie ed erano i primi anni di internet quando navigavi sul web soltanto per capire se le leggende metropolitane proprio inerenti a pokemon che ti avevano sempre narrato erano vere oppure false e quindi dovevi cercare di fare questa sorta di scrematura per capire se dovevi battere la lega per duemila volte per ottenere quel determinato pokemon se potevi semplicemente lasciar perdere ecco lì arrivo per la prima volta sul forum di pokemon millennium e poi ovviamente con il passare del tempo mi allontano la seconda volta è quella invece in cui conosco proprio cedonia francesco e nasce una buona amicizia comunque che si porta dietro anche negli anni di tanto in tanto ci sentiamo mi è capitato anche di chiedergli consigli inerenti magari a twitch quando avevo iniziato twitch quindi comunque bene o male ci siamo sentiti e tra l'altro ripeto per chi c'era già agli alburi del mio canale youtube beh potrete ricordarvi quel gameplay sul canale mai terminato un episodio forse due che abbiamo registrato insieme io e francesco di un pokemon marron merda quindi proprio la rom per eccezione dell'acrom per eccezione e ripeto mai finito perché poi un progetto che completamente naufragato in realtà sul canale principale avevo portato anche altri contenuti inerenti a pokemon principalmente pokemon go che in questo momento comunque ho messo come privato sul canale perché comunque ripeto non sono proprio dei contenuti che vanno nella direzione di quello che parla il primo canale all'inizio era un po' legato al gaming magari con fifa e quindi poteva rientrare beh quando è uscito pokemon go ci ho giocato un bel poco l'estate devo dire la verità ci ho giocato poi mi sono un po' perso per strada ora non ho nemmeno più l'applicazione non la scarico non ci gioco non l'apporto da un mucchio di tempo però quell'estate lì ci siamo divertiti un sacco e ho portato anche appunto dei video sul canale dicevo magic magic è una passione che mi sto portando dietro ho ricominciato a giocare a magic nel 2017 2018 qualcosa di simile quindi mi trovo molto bene all'interno della community ho anche addirittura un profilo twitter dedicato a magic e creo anche dei contenuti di tanto in tanto su magic su un altro canale youtube che non è mio è un canale youtube del posto dove mi trovo a giocare l'accademia penta quindi magari vi lascio il link qui sotto in descrizione per andarvi a vedere qualche video di qualche torneo dove ho parlato della mia esperienza durante il torneo e proprio perché mi piace mischiare tutte queste cose perché ho questa vena nerd dentro di me che non vuole spegnersi quando gioco a magic in real life beh le mie pedine sono queste non so se si vede questo è un charizard anzi è il charizard che avevo quando ero ragazzino spero che possa vedersi magari lo metto un pochettino davanti alla camera quindi distrutto veramente super super pur però c'è un legame affettivo incredibile con questo charizard perché è proprio quello che giocavo quando ero un bambino io credo non aver mai visto un charizard del set base uscire in condizioni idonee secondo me uscivano già piegati dalle bustine tutti quelli che ho visto sono così perché da piccoli giocavamo veramente sulle superfici giocavano dappertutto e quindi questo è però c'è un legame fortissimo con questa carta la mia carta preferita all time perché ci sono tanti ricordi e credo che il fattore nostalgia sia molto importante anche soprattutto per aprire un canale del genere dove voglio andare a tirar fuori ricordi legati agli anni 90 o comunque raccontare a chi segue ancora questi brand che ne so magic pokemon dragon ball dato che sta andando avanti con super mi sono visto gli episodi mi leggo il manga quindi sono super aggiornato lo stesso one piece di solito si parla sempre dell'attualità ma io che quei tempi li ho vissuti ho veramente tantissimi aneddoti e tantissime cose in mente che mi piacerebbe raccontarvi e quindi la nostalgia diventa forte e quindi cerchiamo di aprire questo canale cerchiamo di riempire questo canale proprio per queste cose qui tra l'altro di recente ho rimesso in piedi anche una collezione legata alle mie console legata a nintendo quindi tutta la serie game boy tutta la serie pokemon per game boy color advance chi più ne ha più ne metta e infatti di recente avevo pubblicato un annuncio in cui chiedevo di farmi sapere se eravate disposti a vendere alcune cartucce che al momento ancora mi mancano però pian pianino andrò a completare la collezione diverse cose ho voluto ricomprarle per dire game boy color advance e sp li avevo tutti e tre scomparsi negli anni perché voi dovete capire che oggi sono oggetti da collezionismo oggi sono cose super ricercate una volta era semplicemente il gioco che prende il ragazzino il bambino ci gioca chissà dove sono finite ho una sorella di 12 anni più piccola e ho prestato tante volte tante cose magari non sono tornate indietro tante cose che sono super disordinato magari mia madre ha messo in un sacco e chissà poi dove sono finite a 30 anni quasi 31 con un'indipendenza economica diversa rispetto a quella che avevo da ragazzino sono stato costretto a ricomprarmi queste cose e ora le costudirò gelosamente perché sono super disordinato ma su sta roba qui no su sta roba qui sono decisamente molto molto ordinato e appunto la nostalgia appunto la voglia di raccontarli anni 90 mi hanno spinto a creare questo contenuto per un canale che in realtà in passato era utilizzato per altro infatti abbiamo già 18 mila iscrizioni qualcuno dirà ma scusami ma questo canale una volta parlava di calcio parlava di altre robe c'erano ricaricati dei video magari che erano stati utilizzati su twitch sì verissimo ho deciso di utilizzare come piattaforma dato che quell'altro canale non lo stavo più usando e c'era anche un canale di off topic che avevo creato in passato che era stato inutilizzato dato che so benissimo che tenere due tre canali e poi tenere in attivi non ha senso principale con uno due a volte tre pure contenuti sulla juventus qui non lo so un video al mese magari due video al mese se dobbiamo essere un po più in topic se vogliamo cercare di riempirlo beh quelli magari posso portarvi tanto penso che siano video abbastanza discorsivi e sono video che vanno anche a toccare determinate corde dentro di me che mi fanno ricordare i bei tempi andati e so per certo che tra di voi magari amanti del calcio amanti della juventus amanti di altre squadre tifosi di altre squadre si nascondono personaggi protagonisti che quegli anni li hanno vissuti non li hanno mai dimenticati e che magari hanno semplicemente messo via ricordi in alcune scatoline sentendomi parlare beh queste scatole vengono riaperte magari queste passioni tornano anche fuori a distanza di anni perché certe cose poi non passano mai e questo lato bambinone dentro di me c'era c'è probabilmente ci sarà per sempre perché mi conosco e dato che l'altro giorno proprio su twitch mentre guardavamo una brutta partita della juve così per ridere scherzare ho detto ho ritrovato le mie carte di pokemon di quando ero piccolo se volete invece guardare la juve guardiamo questa e nella live reaction di youtube questo pezzettino è stato redditato e un ragazzo mi ha detto non ironicamente ma potresti mostrarmele davvero il prossimo video sarà proprio su questo la mia collezione di carte pokemon di quando ero bambino che sono arrivate ancora una volta vive vive al 2023 quindi se siete curiosi scrivetemelo nei commenti lasciate un mi piace fatemi sapere cosa ne pensate di un'idea simile in cui andremo a parlare andrò a spiegarvi tante cose in questi anni mi sono tenuto dentro non perché non volessi raccontarle ma perché non c'era semplicemente un posto adeguato per farlo bene oggi ci siamo e retro nasce proprio per questo